Ma guarda, è una cosa incredibile, sei sempre giovane, io ti vedo come ti vedo anni fa, insomma, allo stesso modo, mi fa piacere, insomma, da questo punto di vista. No, io lo so, lo so che sono grasso, insomma, chiaramente all'alimentazione devi stare attento, insomma, è importante, ma chiaramente se nasci grasso non puoi morire magro, devi stare attento, però poi la vita è a tappe, nel senso che non necessariamente poi tu hai la stessa attenzione sempre. Io sono un mascalzone, anche quando si vedeva dei problemi, mangio, poi pian piano mi sono reso conto, ma so invece di riananchino non significa niente, però sono grasso, quindi prendo atto, insomma, poi sai, devi stare un pochettino attento, ma sì, sono un chitarrista, mi piace la musica, lo sai, l'errore che facciamo con molti artisti, insomma, è il fatto che vogliamo fare, l'ho fatto pure io, voglio far uscire il pezzo che poi, poi deve spaccare in radio, in televisione, però poi passando negli anni, arriva una certa età laddove, insomma, pensi che comunque la musica è un codice, un elemento importante, pregnante, a chi piace fare musica, quantomeno per unire le masse, insomma, e continui a fare musica, per il piacere che ti può dare la musica, ecco, tutto qua, niente, niente di più, niente di meno, ecco.